Con la potatura invernale si imposta l'attività vegetativa e produttiva della vite. Dal punto di vista operativo rappresenta una delle operazioni più impegnative, sia per la necessità di reperire mano d'opera specializzata, sia per il costo. N'è proprio in ragione del contenimento dei costi e della difficoltà di trovare personale esperto che la meccanizzazione della potatura trova e ha trovato sempre maggiore impiego nelle aziende vitivinicole. Mercoledì 23 febbraio a Loncon di Annone Veneto in provincia di Venezia, presso la tenuta Sant'Anna di Genagricola Spa, si svolgerà la seconda edizione di vite in campo, potatura e impianto. L'evento è organizzato con Difesa, Treviso, Vicenza e Belluno in collaborazione con le riviste tecniche Vite e Vino, l'informatore agrario, MAD Macchine Agricole Domani. Sarà interamente dedicato alla potatura invernale e all'impianto del vigneto. Il programma della giornata prevede varie dimostrazioni pratiche di potatura meccanica, cantieri a lavoro tra i filari aziendali e con ben quattro visite guidate da tecnici qualificati che illustreranno ai visitatori l'operatività delle macchine e i risultati della potatura meccanica. Una specifica area sarà riservata alla potatura manuale agevolata grazie alle più innovative attrezzature disponibili sul mercato. Nell'ambito della manifestazione inoltre è prevista anche un'area espositiva statica con le migliori tecnologie disponibili per l'impianto e la gestione smart del vigneto. Per accedere alla manifestazione è necessario registrarsi al sito vitaincampo.informatoreagrario.it. Dunque vi aspettiamo a Hong Kong il 23 febbraio.